Buonasera a tutti, mi chiamo Francesco Baikin, ho 36 anni, come si potrà sentire sono del nord, sono nato a Monza, appunto il 22 marzo 1978, da un anno sono ben felice e fiero di vivere al sud e di avere fatto questa importantissima, difficilissima scelta che è stata quella di fare l'inverso di quella che fanno tutti quanti. Io dal nord sono immigrato al sud, vicino ad Acciaroli, un posto meraviglioso. Ma c'è una bella differenza per il nord e il sud, a un nord è tutti casati, a tutti che non abbiamo l'educazione rispetto ai valori che 20 anni fa, diciamo, noi ci siamo addirittati i 20 anni, perché a noi ancora questi valori ce li abbiamo, a un nord li hanno dimenticati, perciò siamo più un po'. No, non li hanno mai avuti, soprattutto l'avvicino di casa che mi scende la parmigiana quotidianamente, che è cosa buona e giusta. Ma da quanti sai, da qualsiasi sai? Un anno. Ma per questo c'è ancora la paventa, la paventa. Questo, infatti ho immaginato che magari a voi servivano gli accenti meridionali, però io ho fatto, e rubo ancora a Sicilia, sono abituato a guardare la tele, e sono abituato perché ho fatto per tre anni televendite, vendevo i numeri dell'otto in televisione. Se volete un terno, ve lo regalo. Gratis, gratis. No, le 23, 68, Roma nazionale, tutte. No, ormai stasera non ci fa più a tempo. Vi ringrazio a tutti per l'opportunità. Grazie. 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 Sessanta. Sei. Grazie.